ed è strana questa prospettiva così come devo dire mi aspettavo restassero i 7 di nuovo inizio magari anche con Krause però con una percentuale un pizzichino superiore pensa che quella notte Pizzarotti mi disse non chiamarmi presidente non lo sono più insomma però virtualmente come lo fosse e ecco mi spiace che non ci siano i tifosi anche del Parma e cito volentieri quegli illustri dello Spezia ad esempio c'è Massimo Podenzana l'ex ciclista che vinse che fu in Maglia Rosa a lungo al giro e poi Dario Vergassola e poi Dario Vergassola il comico e poi Dario Vergassola